Buonasera, vediamo ora i programmi della serata, quelli che vi renderanno la serata così pietosa da rimpiangere l'ultima vostra riunione di condominio. Alle 20.05 su Rai Premium un medico in famiglia 6, programma dove tutti i parenti cercano di capire la grafia del dottore. Su cielo alle 23.05 gli sgommati. In questa puntata sarà ospite il vero Ignazio Larussa, lo diciamo nel caso non si riuscisse a distinguerlo dagli altri pupazzi. Subito dopo di noi il Tg di Enrico Mentana in cui si parlerà delle nuove scosse di terremoto che hanno colpito il nord. Noi abbiamo in esclusiva da Milano le immagini dell'ultima cena, vediamo com'era prima della scossa e vediamo una sconvolgente immagine nel momento del terremoto. Buonasera, buonasera e benvenuti a G Venerdì. Allora questa sera parliamo del nervosismo che si sta impossessando in Italia dell'economia, della politica e soprattutto della televisione. si vede anche dalla volgarità che rompe ogni singolo giorno i cople di tutti e che pa... Allora, ne discutiamo con una donna di questo tema così pura d'animo che anche se ha lavorato tantissimo in tv è riuscita già a guadagnarsi un posto in cielo, inteso quantomeno come canale satellitare, è Paola Saluzzi. Grazie, grazie, grazie. Se mi ha guadagnato un posto in cielo mi è piaciuta molto come cosa. Brava Paola, pubblico date il benvenuto a Paola. Sera. Allora Paola, Paola, tu, tu prima in Rai, adesso appunto su cielo, ogni mattina svegli gli italiani che guardano la tv, ecco. Allora, quelli che ci stanno guardando in tv adesso hanno appena finito di vedere una puntata di Barnaby, tu che sei esperta, fai qualcosa per svegliarli, che si sono assopiti con quella trama. No, invece posso dirti una cosa, mentre io ero al debito trucco, se avessi saputo poi di finire in un frigorifero, questo è un posto dove dopo un po' di anni, insomma, una donna ha piacere di stare perché così... Non lo sapevi quindi che ci saresti finita. Ancora, lo sapevo perfettamente e ambivo questo posto, ambivo mia cara, mon chéri, mon petit, stavo vedendo Barnaby, bellissimo. Ma tu stai schiazzando? No, sì, mi fatti me questo, devi dire che Barnaby è bello. No, bellissimo, ero così piena di entusiasmo che ho detto, Castri, adesso arrivo dalla Gettie e ci sono. E certo, e parliamo un po' di Barnaby. Sì, certo. C'è uno speciale di Mentana su Barnaby, ma adesso non sveliamo ancora, insomma, i segreti più piccanti della vita di questo giovane, di questo uomo inglese. Però, cara Paola, insomma, da te ho molto da imparare, cosa si nasconde dietro i tuoi i sorrisi tanto pieni di dolcezza, da essere pressoché contagiosi a parte i tuoi dubbi gusti sui programmi televisivi tipo Barnaby, ma scopriamo cosa anima questa delizia leggendo la sua biografia in dieci righe, vado Paola. Sì, vai, vai. Paola Saluzzi è nata a Roma il 21 maggio di 30 anni fa, così come è scritto dal suo biografo sotto minaccia. Esordisce in tv su Rai 1 nel 1987 nella trasmissione Viaggio intorno all'uomo di Sergio Zavoli. Zavoli si è poi costituito parte civile. Ha condotto uno mattina insieme a Luca Giurato, un'esperienza che ha arricchito il suo curriculum ma soprattutto il portafoglio del suo analista. Nel 1993 ha fatto la valletta nel grande gioco dell'oca, interpretava l'ultima parte del titolo, infatti ancora si ricorda le battute. È famosa per essere una fervente cattolica, tanto che al suo confronto Paolo Brosio sembra un black bloc. Nel 2010 ha ricevuto il premio nazionale Alguero, donna di letteratura e giornalismo. Vero. Eh sì, sì, cioè, sì, no, no, anch'io ambisco. Un premio che sta al Pulitzer come una pacca sulla spalla sta al Nobel. E tanto a lei l'hanno dato e a me no, quindi insomma, complimenti. Ultimamente lavora a Sky, dove alterna momenti di alto giornalismo ad altri, in cui invita in studio il principe Emanuele Filiberto. Ed è vero, però stai su 24 pomeriggio, tutti i giorni che alle 100 e 500 faccio promozione. Sì, sì, certo. È il momento in cui, per esempio, la politica litiga con la politica. Lo so, sono, guarda, parleremo, no, guarda, non anticipare i temi perché proprio di questo parleremo, anzi, poi sarà proprio un momento, insomma, in cui dovrai produrti in tutta la tua dote dialettica per affrontare la politica che parla della politica. Allora, ricapitolando comunque i tuoi impegni, non sono ancora le 8, sei in video da più o meno 93 ore, quindi sicuramente conosci tutte le notizie della giornata, magari a qualcuno sono sfuggite. Per chi non è informato come te, rimediamo subito. Ecco le notizie del giorno, date da voi i vostri titoli. Non mi devi rompere i coltroni, non è un'offesa, è uno stato d'animo molto diffuso. Non mi devi rompere i coltroni, non è un'offesa, è uno stato d'animo molto diffuso. Fanno una legge per l'autotrenista e poi non la mantengono, è logica che si deve fermare la gente. Fanno una legge per l'autotrenista e poi non la mantengono, è logica che si deve fermare la gente. Dov'è sto governo? Dov'è sta educazione? Dov'è sto governo? Dov'è sta educazione? Non è detto che tutte le hostess siano agenti della CIA? Non è detto che tutte le hostess siano agenti della CIA? Tanta gente non riesce a concepire il concetto della bomboniera? Tanta gente non riesce a concepire il concetto della bomboniera? Cara amica, sono davvero tante queste persone! È la stessa gente che di solito non capisce le bomboniere, ma neanche capisce il concetto di prete, anello nuziale e tetto coniugale. Però stranamente capisce benissimo il concetto di amica carina, vero Jessica Rabbit che non sei altra? Allora c'è qualcuno di questi titoli che ti ha fatto arrossire qualcos'altro? Tra i capelli cara Paola? Dunque splendida, splendida. Moretta? Assolutamente, e dico quello della bomboniera mi ha colpito molto, era quello dell'agenda, l'agenda mi ha colpito molto, molto più della bomboniera. Lo so, la bomboniera è un miraggio per molte donne, lo rimarrà anche per te, immagino. Assolutamente, in maniera volontaria. In maniera volontaria miriamo tutta la bomboniera, ma diamo subito la parola a un uomo che è standard in purso, non potrà mai declassare, perché del resto è più di così. Dove possiamo andare? Matteo? Buonasera. Buonasera, italiani sono sull'orlo di una crisi non solo economica ma anche di nervi, e come sempre la televisione è brava a registrare questi fenomeni. Ieri sera durante il programma di Michele Santoro, un operaio sardo, ripetiamo, sardo, ha duramente apostrofato l'ex ministro Castelli, accusandolo di non capire una lega in sostanza dei vari problemi del paese. Il deputato ha abbandonato lo studio, caso più unico che raro nella storia della presenza di Castelli in tv, e lo sfogo dell'operaio ha avuto grande successo e ha conquistato grandi consensi in rete. Io saluto all'autore di questo gesto, il mio vigoroso e saggissimo conterraneo, il signor Antonello Pirotto di Carbonia. Dobbiamo vedere il momento. Vediamolo, vediamolo insieme, riviviamo questi bei momenti. Ma come fai a parlare così che non sai che in Sardegna? Si paga tutto di più, ma lo sai che le aziende, l'industria è ferma perché non c'è il gas, perché non c'è il metano, lo dovresti sapere. Lo sai quanto costa una bombola di gas per famiglia da 15 kg? Sto parlando delle aziende Lombardi! Castelli, non rompere i co***i a me! Perché a me non mi rompi i co***i tu! Perché a me non mi rompi i co***i tu! Perché a me non mi rompi i co***i tu! Ma che comunicatività è, signor Pirotto! Che tra l'altro da domani condurrà una sua rubrica qui sulla Sette, senza peli sulla lingua, c'è già il logo, lo vediamo insieme. Eccolo qua, hai Pirotto, Antonello, siamo qua che ti aspettiamo quando vuoi. Allora Paola, tu che invece hai un'aggressività pari a quella di Candy Candy con tre boccette di prosa che incorpo, se Castelli dovesse mai abbandonare un tuo programma televisivo, tu cosa fai? Lo insegui, lo raggiungi, lo chiudi a chiave in un stanzino che magari è là vicino al tuo camerino? No, gli chiederei di ripensarci, gli direi ma no, non faccia così, e poi esattamente come ha fatto il nobile Michele Santoro, lo lascerei andare a suo destino, se il suo destino è quello di voler abbandonare lo studio. Quella di Candy Candy è bellissima comunque, non è proprio vero ma è bellissima. No, vabbè, questa è l'immagine, lo so che anche a te gireranno a volte, ma non si vede. Però, cara Paola, a cielo invece tu proprio fai d'antidoto a queste intemperanze della televisione, tu sei un bocciolo di dolcezza, un virgulto di tenerezza, sempre calma e posata, però anche tu ogni tanto, come appena hai preannunciato, ti lasci un po' andare, dici cose un po' diciamo così un po' più volgari, ecco, ti abbiamo beccata. Paoletta, guarda. Vincenzo Parracino ci scrive su Facebook dove poter andare a tr***are Bruno Barbieri con la cucina, sono inizi a parlare di c***a e quanto e come. Massimo dello chic, Marco Fratotti ha fatto la c***a color senape. Quando un politico è evidentemente molto ing***a e viene ing***ato, è diventato un politico famoso. Forse Arise è quella che ha detto c***a, no, è vero, uno rimane male. Ieri sera mi sono intrattenuto con due ragazzi ad una libreria di Via Nazionale che stavano proprio c***ando. Buon sì. Beh, queste sono le immagini che potevamo mandare in onda visto l'orario, insomma, Paola. Io me ne vergogno, me ne vergogno, sono esagerata, lo so, lo so, è troppo. Infatti quelle cose che hai detto sulle abitudini notturne di Angela Merkel l'abbiamo tolta proprio perché non si poteva sentire neanche qui. Ecco, ci stai ripensando, adesso ti è tornata la mente quel passaggio. Però allora, gli scontri tra politici e contestatori non soltanto sono volgari, sono anche qualsiasi cos'altro. Ditecelo voi, cari amici, cosa sono rispondendo alla nostra gran domanda di oggi. Ieri sera da Santoro un operaio sardo ha urlato non mi rompere i c***i all'ex ministro Castelli. Lei trova più volgare sentire in tv la parola c***i o la parola Castelli a spiegarvi come votare un uomo che nonostante tutti gli insulti da quella sedia non si scolla. Prego Matteo. Per votare, mandate un sms con scritto 1 al 478 478 2, se invece volete votare, mandate un sms con scritto 2 al 478 478 2. Ecco, allora Paola, tu come voteresti? Ma insomma, credo che... vediamo quanta bontà riesco a tirare fuori, no? Ecco, in questo momento. Credo che forse sia peggio dire la prima. Sì, la prima, quindi il voto numero 1. Allora, però il rimedio più efficace per calmare questa aggressività imperante che circola nel paese, forse esiste, è un rimedio naturale, ha il nome di un'erba calmante, ma è una scrittrice frizzante, è la nostra grande ospite, Pulsatilla. Ci ho messo qualche minuto a capire che stavi parlando di me. Eh sì, è anche perché ci sei solo tu, questo doveva aiutarti. Dov'è? Allora, cara Pulsa, tu hai una fama di iscrittrice, anche trasgressiva, allora, visto quello che è successo, quale divieto tu applicheresti negli studi di servizio pubblico? Divieto di turpiloquio o divieto di ingresso a Castelli? Castelli purtroppo era il mio compagno in banco delle scuole medie, ciao Piero, e quindi non posso avercela con Castelli, ce l'avrò con Cognoni. Una monima. Quindi anche tu voti come Paola. Allora, però, gli italiani come reagiscono quando la tv usa un linguaggio che loro invece usano soltanto se gli cade un ferro da stiro sul dito mignolo? Si scandalizzano, restano indifferenti? Proprio tu, cara Pulsatilla, sei andata in strada questo pomeriggio per chiedere agli italiani se siano stanchi di questa televisione piena di volgarità, con una piccola sorpresa. Vediamo com'è andata. Geppi, oggi ci occupiamo di volgarità in televisione. La gente ne ha piene le tasche della volgarità? Chiediamolo direttamente a loro. Sono anni che ti alleno a dire, oh, ma f***o scemo. Stiamo parlando della volgarità in televisione, tu che cosa ne pensi? Non ci sono troppe parolacce? Eh, mi sembra di sì purtroppo, perché non c'è bisogno di arrivare a questo punto per espressare anche se uno è in disagudo con qualcosa. Ci sono le espressioni in doppio senso o altre... Infatti io dico, te faccio da c***o, non ce l'hanno un dizionario dei sinonimi e contrari? Eh, penso di sì, c'è un'altra cosa che definisca questa parola, non lo so. Troppe parolacce. Troppe parolacce, programmi spazzatura. Troppe parolacce hanno rotto il c***o. Eh, sì. Stiamo facendo un'inchiesta sulla volgarità in televisione. Troppo. Eh, dicono un sacco di parolacce. E anche come vestiti. Vestiti male, ma scollature terribili, ma parolacce. Cioè, li vogliamo un attimo mandare a fare in c***o questi figli di c***o? È vergognoso. È vergognoso. Vogliamo dire che ci hanno rotto i c***o. Beh, oddio, forse è un po' pesante, ma comunque è vero. Lo vogliamo dire? Troppa volgarità, ci ha rotto i c***o. Grazie. Poi ho un brutto esempio per un bambino, capito? Per me è un vergogno quando vedo il mio bambino guardare questa cosa qui. Allora, diciamolo anche per il tuo bambino. Le parolacce in televisione hanno rotto i c***o. È vero, vero. Diciamolo. Diciamolo, sì. Queste parolacce mi hanno rotto i c***o. Ma brava, brava. Per fare un servizio del genere ci vuole proprio una faccia come il c***o. Allora, ma Paola, complimenti Valeria davvero, perché so che ti è un po' costato parlare un po' con me. Sì, avete omesso gli insulti che ho ricevuto io. Li avete cancellati per pudore. Paola, cosa ne piaci di questo esperimento di pulsatilla? Ma questo esperimento di pulsatilla mi rimanda ad una grande pagina di televisione che erano le candid camera di Nanni Loi, quando, in maniera completamente diversa, ma si arrivava tramite paradosso a far parlare la gente. Ho pensato anche io la stessa cosa, proprio. Ma quando posso dire? Allora, è vero, l'esperimento ha delle sovrapposizioni ideologiche, in qualche modo, con la differenza che la nostra Valeria andava in giro con una telecamera visiva, insomma, le persone ce l'avevano davanti. Lo so, però, dicendo le parolacce così, le persone non se le aspettavano. No, no, non se le aspettavano. Era diverso dalla candid camera. Vabbè, comunque, Valeria... Vabbè, è un'ora tarda, ho mangiato i peperoni, si sono riproposti, evidentemente. È un'ora tarda. Dono risposte per quello che riescono ad essere. No, ma guarda che abbiamo avuto gente che ha detto di peggio, senza la scusa neanche dei peperoni, quindi vai benissimo così, Paola. Fantastico, grazie. Ti stimo come sai. Pulsatilla, come ci si sente, però, a usare deliberatamente del turpiloquio davanti alle telecamere? Hai provato dell'imbarazzo o ti senti pronta per il Montecitorio? Molto liberatorio, come diceva il vecchio Funari. Tanto liberatorio. Lavorate a smai di recitare gente morta, per cortesia, tutti e due. Ma io non lo so. Grandi maestri. Grande nostalgia, grandi maestri, Nani Loria, Gianfranco Funari, a cui dobbiamo moltissimo, ma non possiamo salutare. Però non è giusto, non è giusto accusare la TV di essere soltanto volgare, perché in TV ci sono anche delle isole felici, e quando uso la parola isola non sto parlando a ca, perché qua ci deve essere un altro bip, ma si è addormentato quello che c'era sopra, perché proprio sull'isola, su una delle isole più celebri, che non è la mia, c'è una donna che fa d'antidoto alla volgarità, una poetessa con le mesh, Flavia Vento, ascoltate e farete pace con voi stessi. Immensamente te, immensamente noi, arrivi dentro me come il vento e spazi via ogni pensiero, perché il pensiero tuo entra dentro di me come una tempesta, brividi nel cuore, vorrei fossi qui. Bella, brava Tatiana. Grazie. E tezza. Bella, piace. Bella. Beh, non è facile scrivere poesie. Beh, certo, non è facile scrivere poesie, come questa poesia improvvisata da questi versi di Flavia Vento, nel senso proprio i versi, quelli che stavano dall'elefante, che si lascia andare a morire da solo. Però, hai visto Paola, Flavia recita una poesia a denaro e lui le dà un bacio sulla fronte. Tu cosa daresti in fronte a Flavia Vento? Un, 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 ripensaci. Ecco, andrei vedere, ripensaci. Ti è piaciuta, lo so, la puntata sulla volgarità voleva vedere la tua capacità di ripresa. Allora, aspetta, perché mi stanno facendo vedere un cartello che io davvero non capisco. Cos'è il pensiero, c'è scritto. Io, quindi, una conduttrice in diretta che prende spunto dai consigli dei propri autori, qua dovrebbe aprire un mondo. La poesia di Flavia Vento parlava molto di questo pensiero, il pensiero. Il pensiero. Magari i nostri ospiti hanno un'idea su questo pensiero. Qual è il pensiero fisso che secondo te ha Flavia Vento sull'isola? Attenta, che non sei il bipapa. Troppo vento che le passa in testa. Troppo. E' perché... Non so che tutto il pensiero passa a me, non è vero? Esiste una coerenza, diciamo, tra la sua attività intellettuale e il suo cognome. Tu, Pussatilla, invece hai qualche pensiero? Io ho pensieri profondissimi. No, viene voglia di lasciarla lì sull'isola, visto il contributo che l'isola stimola le patrie lettere. Lasciamola lì. Sì, sì. Anche una bella rima... Non vedo l'ora che sia la settimana prossima per assistere a un'altra rima baciata. Però forse Flavia Vento non è l'antidoto reale per la volgarità che impera in tv. Però noi raccogliamo la sfida per cercare di fare una televisione migliore. Vogliamo provare a tradurre in italiano aulico, elegante, gli insulti di alcuni rappresentanti della nostra classe politica. Vi chiedo per questo di giocare con noi nel nostro consueto gioco in gentiliscimi questo. Allora, cara Paola, cara Valeria, voi adesso dovrete ascoltare certe dichiarazioni rilasciate da alcuni personaggi politici, però dovrete aiutarmi a tradurle in un linguaggio corrente. Per giudicare la vostra capacità di trovare dei sinonimi a livello letterario, però vorrei un giudice imparziale. L'ho chiesto a Matteo di farlo, ma mi ha risposto Franchiani. Quindi abbiamo un giudice perfetto perché è un politico, quindi gli hanno detto talmente tante parolacce che ne conosce tutti i sinonimi. E il vicepresidente del PD, Ivan Scalfarotto. Buonasera, ciao. Ciao Puzza, ciao Paola. Prego, allora benvenuto Ivan, scusa la presentazione. Il gesso va rotto perché altrimenti, come noto, fa dei rumori fastidiosissimi. Sì, ecco, sembra una puntata di non è mai troppo tardi. E infatti improvvisamente è diventato questo. Allora, scusami, ho detto qua che sei qua in quanto politico, ma sei anche qui in quanto un uomo pieno di buon gusto. Ho paura già. Allora, possiamo cominciare. Voi ascoltate bene queste frasi dette da politici, sono bippate, però il senso secondo me si capisce benissimo. Voi dovrete, alla fine dell'RVM, rendere lo stesso concetto con parole molto, molto più educate. Ok Paola? Ok Valeria? Allora, cominciamo col primo politico di cui non è stato facile trovare delle dichiarazioni volgari, Umberto Lord Brummel Bossi. Prego. Allora, Paola. Ecco, la parola si è capita, citava la capitale nostra tanto amata, e poi un complemento di moto a luogo. Come potremmo renderlo, cara Paola? Scusa un attimo. Allora Valeria? Guarda, io cito mia madre. Quando avevo tre anni le chiesi, che cosa vuol dire mamma, vaffan? Pulo. Brava, grazie. E lei mi rispose, vuol dire vatti a sporcare di cacca sul culo degli altri, che è una risposta veramente creativa. Allora, io vado via. Ma scusa un attimo, ma Valeria, se non puoi dire quella parolaccia nella prima frase, non è che la metti nella secondaria. Io ho citato, con le virgolette, ho citato. Si chiama Scarica Barilla, adesso darà la colpa a tua madre, mi sembra un po' troppo comodo. Paola, mi riprendo, scusate perché siete una cura terapeutica per una sana ed eccellente risata. Sono in profondo dissenso con la capitale. Ecco. Ma io devo dire, Paola è stata più vaga e... Misteriosa anche. Un po' più misteriosa. Poi Pulsatilla... Calprotto, sono di Foggia, devi fare per me. Devo dire che Pulsatilla viene da un'ottima scuola, abbiamo fatto lo stesso liceo, io molti anni dopo, ma lo dimentico questo. Direi che in questo caso è stata più attenta, più attinente al tema Paola Saluzzi. Quindi darei un sette. Un sette a Paola. Un sette a Paola. Dammino Matteo scrive. Perché era anche piuttosto vaga. Mentre invece a Pulsatilla darei un sei e mezzo, perché comunque, nonostante... Perché è di Pugliese, solo per quello mi vorrei capire. No, 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 per questo. Ecco. Perché, guarda... Diciamo che la fantasia non l'ha fatta da padrona. Allora, andiamo con il secondo Rwm, con le quali potreste scatenare nella vostra perifrasi. Molta perifrasi. Prego. Me ne sono andato perché ho ritenuto unico, peraltro, di tutte le persone. Paola, se n'è andato. Lui è dal ministro, lei è di casa. No, 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 ma vada a farsi f***e. Lei è un bugiardo e un mascazzone. Ecco, qua abbiamo l'onorevole D'Alema, il big del PD, che insomma, vada... Parla un po' come Flo del sitcom Alice. Vada a farsi abusare fisicamente in qualche luogo. Crede. Paola? Bisognerebbe dire vada... vada a farsi un giro con qualcuno. Pagando, però, secondo me, intervino. Vada a farsi un giro con qualcuno. Pagando o con tanto amore del resto. Invece, Valeria? Io direi vada a farsi coprire sessualmente da qualcuno. Passivo, però. Salutiamo tua madre anche in questo momento. Ciao, mamma. Sì. Ivan, è qua il più duro, eh? No, sì, no, io questa volta devo dire che Paola è stata veramente un po' generica. Farsi un giro è una cosa molto vaga e poi non c'entrava l'indito che l'onorevole D'Alema voleva effettivamente esprimere nei confronti al suo interlocutore. Invece del verbo... Per cui le darei, perché è stata brava nell'esercizio precedente, un 6 meno forse. Ma è ingiusto. Perché un giro può non avere quell'elemento. Allora, invece cosa ne pensi di questo verbo? No, invece Puzzatilla credo che abbia arricchito anche con una mimica estremamente efficace la sua traduzione. Coprire, è anche usato molto in veterinaria, peraltro. Coprire. E poi proprio per la mimica io direi che questa volta merita un 8. Grazie. Per la mimica... Ti voto, ti voto! Ti voto! Non ha abbinato il gesto perché ci mancava solo quello. Allora, siamo... Insomma, fate i conti. Non l'hai visto ma c'è stato il gesto di polso. Non l'ho visto il gesto di polso. Eh, però a quello ci riferivamo. Andiamo con l'ultimo Rwm con cui va a chiudersi questa partita. Prego. Forza gli occhi, è un'idea del c***o. Oh, benissimo, glielo andate a dire a Berlusconi. Ecco, l'ex sottosegretario Daniela Santanchè qua invece manifesta i propri dubbi sul nuovo claim dell'eventuale nome del nuovo partito poi non dato da Silvio Berlusconi e dicendo in questo simoro ci mette tutte e due le gioie e i dolori della vita in questa frase. Paola, come lo tradurresti? È una fallica presunzione. Valeria? Guarda, io, noi abbiamo nella mia famiglia invitato... No, no, ci stare parenti per dire cose orribili. Non è che metti uno zio davanti e poi ripeti le parole. Guarda, la faccio breve. Il sinonimo che abbiamo trovato in famiglia per mio marito di azzo è straccio bagnato. Tipo, ma che cos'è quello straccio bagnato che hai tra le gambe? Sarà contento lui comunque di sapere che tu... Chiaramente un complimento, diciamo. E tu lo ami ancora comunque. Siamo regolarmente coniugati ancora. Bene. Quindi, non lo so, fare il tuo il solo. Questa volta sono veramente abbastanza in imbarazzo. Chi lo dici? Però direi che Saluzzi merita un voto abbastanza alto per la sintesi, perché l'onorevole Sant'Anchesi era, come dire, dilungata in più particolare, invece la Saluzzi con una sola battuta è riuscita. Sì, un minea. E quindi direi un otto, otto anche a lei. Per Pulsatilla, questa lo staccio bagnato per una questione di orgoglio maschile, merita una piccola punizione e quindi direi sei e mezzo di nuovo. Sei e mezzo, qualcuno faccia i conti rapidamente, ma mi sembra di capire. Io sono un po' negata sotto il profilo matematico. 21, quindi chi ha vinto? 7, 8, 15 e 6, 21, meno Foggia. Allora ha vinto Pulsatilla. Ha vinto Pulsatilla. Ha vinto Foggia. Mi dispiace Paola. E' un minuto. Valeria vinci la scatola del primo gioco in scatola, appunto, ispirato al trotto, allo scarababeo. La prima parola composta, già dentro, è stipendio. Con una P, tra l'altro. Io ti ringrazio, Iva. Io nemmeno una parolaccia ho detto. Non ancora. Pur facendo il politico. Se non te ne vuoi prendere, adesso accomoda, ti mi sono uscita, non da me, da mentana. Ringraziamo Iva Scalparotto, giudice imparziale. Grazie Iva. Però questo gesto compiuto, queste parole, dette ieri dall'operaio mio conterraneo, è stato davvero liberatorio. Per far sparire un politico con una frase, altro che abracadrabba. Però è un periodo in cui frasi come questa e altre, come il salga a bordo, fatto, rivolto da De Falco a Schettino, diventano dei simboli di liberazione. Però esiste una frase madre di tutte queste frasi liberatorie, ed è questa. Riviviamola insieme. Allora? Per me, la corazzata Cotionkin è una cagata pazzesca! Bell'applauso! Si unisce anche il mio pubblico! Ma voi, voi, amici da casa, siete come fantozzi eroi per una volta al contrario. Allora chiamateci e raccontateci di quella volta che, proferendo due o tre volgarità, vi siete guadagnati il favore di tutti perché erano la verità. Il numero per suggellare il vostro successo, in questo caso, è il solito. Giuseppe D'Alecco! Stop a televoto! Che era un cugino di Nuzzi ha detto stop a televoto, in questo caso. Allora, Giuseppe D'Alecco! Cetti, buonasera. Buonasera a te e alle tre. Grazie. Grazie per il look. Grazie, grazie. Quanti anni hai, Giuseppe? 56. E cosa fai? Faccio l'infermiere autonomo. Cioè? Aiuti solo chi conosci, che sta amando. No, autonomo. Sì. C'è lavoro con partita IVA. Ah, sì. Aiuta a casa le persone che hanno bisogno. Aiuta a casa le persone che hanno bisogno. Allora, Giuseppe, raccontaci di quella volta che hai sbroccato e sei diventato un eroe. Ufficio postale, tantissima gente, due soli sportelli aperti. Io ho sclelato di brutto e ho invito contro gli impiegati. Dopo un mattidecco ho riscosso l'applauso della gente e l'apertura di altri due sportelli. Bravo, hai lavorato per la società. Abbiamo risultato la gran domanda, guarda la luce che ce lo dice. Ed allora, se abbiamo risultato la gran domanda, andiamo a scoprire il messaggio. Tra l'altro, Giuseppe, l'ecco è già una volgarità. Sì, è un invito a volte, però dipende, insomma. Cosa dici? Allora, ieri sera da Santoro un operaio sardo ha urlato Non mi rompere, Lione, all'ex ministro Castelli. Lei trova più volgare sentire in tv la parola, Lione, la parola Castelli. E secondo il 96% è più volgare la parola Castelli. Quindi sono d'accordo con te, Paola. Allora, prima di salutarvi vi ricordo che oggi la 7 onora la giornata della memoria. Tra pochissimo ve ne parlerà Enrico Mentana nel suo TG. Noi vi ricordiamo che per rendere possibile la costruzione del memoriale della Shoah di Milano basta fare una piccola donazione ai numeri di conto corrente che trovate nel sito della fondazione memorialeshoah.it Grazie a Paola Saluzzi, grazie a Pustatilla e a Matteo Bordone. Ci vediamo lunedì per un altro delicatissimo video. Ciao!